Eccomi qua, respiro profondo, se ci sono i due, ecco io guardate una cosa, io vi prometto una cosa, una volta faremo un filmato, filmo io e vi faccio vedere quei due individui lì, li dovete vedere, perché uno continua a farmi sorrisi e così come per dire, bravo, bene, e quell'altro sorride che va bene. Cosa si fa per il denaro e per far andare avanti telegarda ragazzi? Allora veniamo a noi, apro il giornale e leggo. Il direttore generale, mal pagato naturalmente, Poreto che va in giro a chiedere la carità, direttore dell'azienda sanitaria, scopre che sarebbe meglio fare degli ambulatori, dei medici di base, metterli assieme. No, io guardo al momento, insomma, mi pare di averle sentite ancora queste robe, mi pare che qualcuno l'abbia accennato a questo. Allora c'è uno dei due esperti, qua dico, ma scusi, ma non è mica una volta in una trasmissione? Sì, la vera che ti dico. Allora ve la ripeto, ve la ripeto. Raccontare le cose è diverso che viverle. Chiaro? Racconto una cosa, ma voi non l'avete vissuta, io l'ho vissuta e ve la racconto. Come funzionava la medicina di base 60 anni fa? Facciamo anche 70. Allora morivano tutti? No, morivano tutti male. Partorivano tutti male? Non è vero che partorivano tutti male? E come avveniva l'assistenza sanitaria? Oddio, ragazzi, non c'erano gli antibiotici e non c'erano i vaccini. Due cose importantissime, vaccini e antibiotici, i quali hanno cambiato la vita degli uomini? Ma nessuno lo vuol dire perché le cose raccontate non sono come le cose vissute. Allora c'era il dottor Colini che aveva la condotta di Arco, il papà del Pio, quello che aveva fatto il secondo. Di qua c'era il dottor Chesani, all'ospedale civile c'era il dottor mio riconsuore Ignazia. Queste cose le ho già dette, ma ve le ripeto. Morivano di dire no ragazzi no, 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 no. Che funzione avevano questi due medici di base? Primo, prima di andare in condotta che cosa facevano? L'università e poi ne avevano condotta? mia nonna in carossa cari, mia nonna in carossa e facevano sei anni, uno, due, tre, quattro, cinque, sei di ospedale. Perché dovevano andare sul territorio preparati? Perché non c'era tutta l'organizzazione sanitaria che c'è. Erano dei piccoli pronti soccorsi sul territorio. Si rompeva la gamba a uno? Il gran gesava? Gheran den che fea male? Il che lo caveva? Gheran putelot che cascava e si faceva un taglio da cinque punti? Gli davano loro? Gheran le cambrette? Ragazzi, erano dei piccoli pronti soccorsi. È vero, l'età media era di 45 anni, De Doja se moriva, la Doja era la polmonite. Ma quando sono arrivati gli antibiotici? Questa gente era ancora sul territorio, eh? C'è rimasta per diversi anni con gli antibiotici e i vaccini sul territorio e la situazione si è cambiata. Eppure erano dei piccoli pronti soccorsi. Vi siete mai domandati perché gli ospedali sono pieni così, pronti soccorsi perché gli è pieni così? Ditemelo voi, io non lo dico, io non lo dico, ma non si può andare avanti con la medicina di base così. Adesso se ne scorda il Bordone, mi scopre che sto potrebbe fare in poi gli ebulatori. Allora vi dico che lo farebbe il Carlo Tamanini se fossi l'assessore alla sanità e avessi poteri e non avessi paura del sindacato dei medici e non avessi paura che andassero all'indiretta. Esodo questo passo. Siccome sono persone tipo Bordone, pagate bene, non hanno 400 euro o 500 che dicevo l'altro giorno di quel pensionato che mette 50 euro a parte al mese. Va bene? E' gente che riceve dei stipendi sostanziosi. Allora si dovrebbe fare in modo che i medici di base facessero il servizio a turno anche la notte. le guardie mediche le metto da una parte, perché le guardie mediche se andate a vedere i lamesi dell'ambulatorio lì lì, adesso hanno fatto solo la guardia medica arriva, quando potrebbero fare a turno i medici di base di più. Magari da essere le farmazie che fanno gli esami del colesterolo, del coso con le attrezzature. Il sottoscritto, come hanno detto adesso, si coagulano 4-5 medici, qui ad Arco c'è già un buon esperimento, 5 medici, l'infermiera e se fa le analisi, non mandarle tutti in ospedale, no. Perché un'infinità di analisi oggi si possono fare in pochissimo tempo. Ma siccome i dischi e le apprezzature li devono pagare gli altri, che si come, non bisogna investire. Naturalmente tutto questo nel conflitto di interessi, perché se mi sento i medici di base, la farmacia li manda punisciugni, li manda piuttosto, non so dove, piuttosto che ne do farmacie di quel farabutto di Carlo Tamanini che dice le cose come stanno. Ma la verità è che io vado dalla parte del popolo e non dalla parte dei siori. Ecco perché dico che comincio a pensare di essere un comunista, di non essere più liberale. Perché la popolazione ha bisogno di essere assistita, la PIA non la può fare come Carlo Tamanini che va dal primario e si paga la visita medica, che tocca stare e soggiacere a tutto quel tipo di organizzazione. Io credo che se i medici di base venissero organizzati con ordini precisi, se li piace, li piace, se no si vale in diretta. Ci sono degli stati dove vale in diretta. Ragazzi, visita, paga e dopo si rimborsa alla cambieria la storia, ragazzi, ve lo assicuro io, invece che avere la garanzia di avere questi pensi. Ragazzi, io sono dell'avviso che i medici di base non possono staccare il telefono venerdì pomeriggio e pensate quel martedì del primo maggio hanno staccato il telefono venerdì pomeriggio e l'hanno ripreso stamattina. E per tre giorni siamo stati in mani della guardia medica. Brava gente, per l'amor di Dio, ma vorrei vedere io un edema polmolare trattato da uno che ha vent'anni di esperienza rispetto a uno che è venuto fuori dall'università ieri. Sfido! Sfido! Anche se non sono un medico. Io lo sfido. A casa uno con l'edema polmonare visto dalla guardia medica o visto da uno che ha vent'anni di esperienza o dal vecchio Colini che veniva da sei anni in ospedale e qua l'eggia fea, zom, fa in taglio un chio e gli ha fatto la marca di sangue e quell'altro l'avversiva gli occhi. Adesso è lì con la siringa ciapara, uno con la sasso. Ragazzi, non siamo più capaci di guardarci in faccia e dire la verità, perché la verità è questa. La medicina di base è quella che va riformata. Gli ospedali vanno bene, non c'è bisogno di metterci mano, no. Ci sarebbe bisogno, come ha detto Carlo Stamanini, più di una volta che Santa Chiara lavorasse 24 ore, come fa il Grigoni, come fa l'Acqua Fil, con turni di servizio continuati. Il Santa Chiara dovrebbe lavorare 24 ore su 24 ore. Eh no, pensate a fare l'ospedale con 325 milioni, ma vi rendete conti voi il costruire l'ospedale che tra vent'anni o dieci anni, quando è finito, magari è cambiato talmente la medicina. Io parlavo l'altro giorno con un chirurgo del cuore e mi diceva che a Siena, a Siena, c'è il robot. Il medico non ci mette più mano, viaggiano con il robot, ve lo rende conto? Costa una barca di soldi, bisogna che si sia adoperato non so quante volte al giorno, eccetera, eccetera. Ma la tecnologia è quella lì e noi non la vediamo, l'ostetricia sotto casa, eccetera. Il reparto di ostetricia, a me non ha fatto nessun effetto, perché bisogna che i reparti abbiano casistica, non viene nessuno bravo ostetrico, veramente bravo, non andrà mai in un reparto dove c'è 200 parti. Ve lo sognate? ve lo sognate? Con 200 parti, podalici ne vedete men che quel che la fa 900. Gravidanze extraterrine, problemi allevaie, chi è che li vede? Con 200 parti, li vede quello che ne fa 900 parti, perché 900 parti significa anche tutta una serie di problemi ginecologici connessi. Ma di queste cose non si può parlarne. Per chi vuole l'ospedale sotto casa, l'ostetricia, di chi? Quando ghera il Colini, ragazzi, ghera due ostetriche sul territorio, due, che erano come due ginecologi, certo che se ghera dei problemi chiamavano il medico condotto che aveva fatto un anno di ostetricia in ospedale e quindi sapeva do metterle mani. Ma di queste cose non se ne può parlare. Io desidererei una cosa, ma mi piacerebbe che venisse Bordone ad Arco, questa è la mia sfida, che venissero questi al casino di Arco, loro ai sottoscritti. E vorrei vedere se la vinco io o se la vincono loro. Oggi, ragazzi, esplosioni qua, adesso mi occupo. Se lo sa mia moglie, mi ha detto che la farmacia è vuota perché i medici condotti dopo una roba del genere noi veniamo a Arco. Salve!